Siamo qui per dire basta guerra. Per poi raggiungere la Basilica di San Pietro. Una edizione straordinaria, oltre 30.000 i partecipanti, decine di vivi città in Italia. Ancora una volta si è corso per i diritti, per l'ambiente e la solidarietà, per la pace e la legalità. Oltre a Roma si è corso in altre 38 città come Caviano o Bari. In altri centri urbani il percorso si è sempre snodato dalla periferia verso il centro della città. Arrivati alla meta, com'è andata? È andata molto bene, era importante correre questa mattina quindi grazie alla WISP. Moschea, Sinagoga, San Pietro, tre luoghi di culto dopo una notte di bombardamenti ci sentiamo di aver fatto una piccola testimonianza.